Wewe ragazzi e bentornati! Come voi tutti avrete ben notato, sono state apportate delle modifiche all'interfaccia grafica e al livello degli abietti. Ad alcuni players è anche stato diminuito il loro grado di potenza, ad altri è aumentato. Oggi cercherò con questo video di chiarire queste situazioni e nel frattempo darvi qualche piccolo dettaglio aggiuntivo. Ma prima di tutto, sigla! Con grande sorpresa, dopo l'arrivo della nuova stagione, l'Epic Games aveva già annunciato che per noi le venture sarebbero cambiate il 4 settembre. Quindi non spaventatevi se al momento non vedete contenuti nuovi, dobbiamo solamente aspettare per il momento. Però in effetti, chiunque di voi abbia loggato in questi giorni su Salva al Mondo, avrà notato che qualcosa è sicuramente cambiato. Ma cosa di preciso? Allora, come al solito la Epic è molto confusionaria, non rilasciando comunque patch notes all'inizio ci viene difficile capire cosa hanno fatto e cosa non hanno fatto. Quindi, a primo impatto, qual è stato il nostro primo impatto? Abbiamo trovato gli abietti di una potenza esagerata. Nelle missioni a 4 giocatori, semplicemente al 140, quelle che prima comunque erano al 140, 4 giocatori, e dove facevano arrivare gli abietti più o meno di potenza 174. Adesso faranno nascere gli abietti di potenza oltre al 200. Stessa cosa per la Endurance, dove appunto la prima wave nascono di potenza 160, fino ad arrivare alla wave 30, che arrivano di potenza 621. E no, non state leggendo male. È proprio la potenza 621. Ovviamente questa tabella si riferisce comunque alla versione 4 giocatori, non singolo giocatore. E a questo punto voi starete dicendo, sì, vabbè, ma adesso è diventato impossibile. Uccidere uno smasher al 600, ma siamo impazziti? Ed è qui che sbagliate, perché diciamo che già anche prima gli zombie, o meglio, gli abietti, avevano questa potenza, a detta di Epic. Semplicemente diciamo che il loro livello non veniva calcolato giustamente. Ecco, se vogliamo fare un paragone, diciamo che gli abietti che erano prima la potenza a 171, in realtà erano molto più alti. In realtà non erano proprio 171. Questo per acchiudere brevemente comunque tutto ciò che è successo. Quindi cosa significa ciò? Significa che la difficoltà per tirare giù un abietto di potenza a 600, immaginiamo, non è cambiato assolutamente dalla difficoltà che avevamo prima. Diciamo che è cambiato solamente il livello che vediamo sulla testa, ma che già prima erano così le caratteristiche degli abietti. Soltanto che non veniva mostrata la potenza attuale, correttamente mi viene da aggiungere. Quindi la difficoltà nel gioco in sé non è stata aumentata. Anzi, se proprio dobbiamo dirla tutta, è stata persino diminuita. Perché, come avrete voi tutti ben notato, ora la potenza boostati da un team non è più 140. Il massimo della potenza raggiungibile, appunto in gruppo, adesso è il 211. E questa statistica comunque non va ad aumentarsi a come eravamo prima, come siamo adesso. Semplicemente prima non veniva mostrato veramente il rank boostato dal team, ecco. Ora il sistema di scaling, chiamato così in inglese, diciamo che dovrebbe funzionare correttamente. Quindi in molte zone del vostro mondo è probabile che la potenza degli abietti sia leggermente cambiata. Specialmente magari nelle missioni 4 giocatori dove subiscono poi tante variazioni. Di conseguenza ovviamente cambia anche la potenza nel momento in cui andate a, diciamo, aumentare la difficoltà di ogni missione. E per quanto riguarda il vostro livello, perché è diminuito? Perché ora la Epic ha fatto in modo che per raggiungere, diciamo, il 131, l'unico modo che abbiamo per appunto raggiungere questo livello è quello di utilizzare i supercaricatori. Per spiegarvi meglio questo fatto, riprendo un attimo il commento fatto appunto da Epic Games. Salve a tutti, abbiamo fatto qualche piccola modifica al livello di potenza per supportare la promozione dei supersity. E abbiamo corretto qualche bug associato a come venivano calcolati. Il nuovo livello di potenza dovrebbe essere molto più accurato in termini di quale contenuto starete giocando. Il game attuale, quindi diciamo le statistiche di vita, scudo o degli zombie, non sono cambiate. Sono solamente state modificate nell'interfaccia grafica, la maggior parte, diciamo. Ci dice che precedentemente gli abietti con la potenza sopra il 140, diciamo, che erano molto più potenti rispetto alla potenza con cui venivano raffigurati, come vi dicevo prima. E attenzione a quest'ultima parte che è molto, molto importante. Il livello limite che la Epic era intenta a farci rispettare era il livello 130. Quindi cosa significa? Che il 131 era, tra virgolette, un errore. Adesso lo scopriamo. Però con tutti i supersity livello 50 il loro intento era farci arrivare al livello 130 e non 131. La vecchia formula diciamo che non funzionava correttamente. Questo permetteva ai giocatori di andare leggermente sopra il 130. E il nuovo limite raggiungibile con appunto tutti i supersity di livello 60, questa volta si parla ovviamente, quindi tutti i supersity promossi con i supercaricatori, è il 145. Quindi finite le venture, finito di potenziare tutti i supersity, noi arriveremo alla potenza 145. Legittimamente mi viene da aggiungere questa volta, anche perché poi, oh, la prossima volta non è che possono continuare a mangiarsi le loro parole, questa volta l'hanno scritto. Poi cos'altro non hanno detto che è degno di nota. Adesso è possibile ricercare da registro a raccolta tutti gli eroi di questi set, tranne quelli mitici. Eroi spia, eroi art deco, eroi rad, eroi pirati, eroi cinesi, eroi festivi sia del 2017 che quelli di quest'anno. Gli eroi di Halloween 2017 e 2018, ma non a ci trova sangue e non il Milite Teschio. Poi eroi wild west ed eroi fantascientifici. Se qualcuno di voi fosse interessato ai vari trofei della Playstation, diciamo che hanno risolto anche un problema che non consegnava i trofei necessari. Poi mi farete sapere voi se è vero o meno. Gli hamburger di Dennis ora finalmente sono colorati. E il pacchetto del leader squadra metallo ora non verrà più mostrato, diciamo, a chi lo possiede già, in poche parole, a chi aveva l'ultima edizione. E niente ragazzi, questo è quello più o meno che è successo in questo giorno, in questo cambiamento di stagione per l'altra modalità. Nel frattempo che il video sta per chiudersi, vi lascio questa immagine direttamente presa dai leaks delle venture della prossima stagione. Quindi mi raccomando, finite queste venture perché avremo altri super caricatori e poi nessuno deve rimanere indietro con i livelli, no? Quindi dovete assolutamente ottenere tutti i super caricatori. Io ragazzi vi ringrazio della visione e ci tengo molto a sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Se ovviamente avete altre domande fatemele qua sotto tranquillamente con un commento. Per oggi è tutto, noi ci vediamo con il prossimo episodio oppure live. Bella bella! Ciao!